ciao a tutti ragazzi io mi chiamo Biagio e benvenuti sul nuovo video di Clash Royale oggi è un aggiornamento assurdo guardate guardate 2 WIS 2 allucinante e guardate qua cosa ci sono una nuova carta d'arena 9 mentre la leggendaria nel mondo e cinghiale che il domatore leggendario bello altre carte arena 8 poi arena 6 altre carte solo queste ci sono aspetta che doniamo nuove carte apriamo ok guardate il mazzo prima era di prima era di tremore di 5 il mazzo troppo bello questo guardate gioco partita veloce sto giocando giusto ragazzi aspettate o lo stregone bene vedete come battaglia tra Clash è troppo bello Clash Royale mi piace è meglio di Clash of Land come battaglia in tempo io gli butto il principe per lui mi sarà che mi butta e gli facciamo la torre eccomi battaglia tra clan ragazzi mi piace mi sa che gli farò la torre in tempo libero sono contro manuela a rende caesos io sono compagno squadra il peca bello ecco ragazzi ecco cosa si dice fare un campionato di duello e vincere vinciamo la partita qua in questo slot potete fare quello che volete bello slot baule pieni e abbiamo ottenuto le corone bello bene ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto di crash royal è stato un aggiornamento assurdo non vi dimenticate che usciranno i pipistrelli carta comune grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti